La finale alla fabbrica con De Rossolaner, il periodico free press in tedesco e francese di Ossola News. Sì, sono contento che tanta gente questa sera alla fabbrica abbia potuto assistere alla presentazione di questo nostro bimensile. È un giornale che racconta praticamente le notizie più importanti, quelle che almeno noi crediamo possano essere le notizie più importanti per i nostri amici vallesani che riguardano l'Ossola. Notizie che noi facciamo tradurre in tedesco e in francese in maniera che possa essere apprezzato da tutti i vallesani, anche quelli che abitano più lontano, da Sion a Ser e che pubblichiamo bimensilmente, ovvero ogni due mesi. Però ogni settimana lo distribuiamo, per cui ogni otto settimane noi cambiamo il giornale con le notizie, però tutte le settimane lo distribuiamo gratuitamente. Ne stambiamo più di 10.000 copie e lo distribuiamo gratuitamente nel mercato domese, in tutti gli esercizi commerciali e anche nei pressi della stazione internazionale di Selle e ovviamente a Domodosso. Insomma, i punti nel Vragici dove sappiamo che gli svizzeri frequentano la città. Abbiamo notato un grande riscontro da parte degli inserzionisti che fanno le pubblicità tradotte in francese e in tedesco e quindi sono molto contenti che gli svizzeri apprezzino questa iniziativa. Il nostro obiettivo sarebbe quello di riuscire ad avere dei contatti con partner media del Vallese in maniera da poter iniziare uno scambio che sia di notizie e quindi anche commerciale. Insomma, vogliamo essere un punto di riferimento per le notizie ossolane nel Vallese. Nella famiglia di Ossola News anche Anna, che cura la parte in tedesco di The Rossolaner. Buongiorno, sono Anna Pasqualin, io curo la parte tedesca del giornale The Rossolaner. Sono molto contenta di fare la traduzione per Ossola News e spero di continuare nel migliore dei modi. E ringrazio anche i colleghi che mi hanno dato la possibilità di fare questo lavoro che era uno dei lavori che mi sarebbe tanto piaciuto fare. E quindi li voglio ringraziare di cuore. Volevo ringraziare specialmente Uberto Gandolfi, che mi ha proposto inizialmente di fare questo lavoro.